Musica Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy Oggi signori avremo la possibilità di salvare il presidente Eh sì, è proprio un presidente Prima di cominciare però devo salutare due persone che mi hanno chiesto appunto di salutarle Che si chiamano Dragon Swamp e Draid 4S7 Ciao ragazzi Mi raccomando ragazzi, prima di cominciare un like d'obbligo perché c'è Questo sarà sicuramente il gioco della vita, eh Non voglio storie Eccoci Che A parte il fatto che sono un uomo meraviglioso Perché state applaudendo? Ma che cazzo Cos'è quello? Un parrocchino? Presidente, tutto bene? Ma no, aspetti No, scusi Ah, sono io il nuovo presidente? Vi voglio bene No, sono morto Aiutatemi, vi prego Cosa state esultando a fare? È morto No, vabbè Adesso ce la devo fare però Schiva Eh, non si può fare Mi spezzo le tibie Ho fallito la mia missione Il presidente Aspetti che vengo con lei a morire Ok Eh, vabbè Ma ci si può lanciare? Ho preso E salvo il presidente Io sono vivo Ma che cosa è? Ma una manina piccolissima rispetto al braccio Ma è trasfigurato quest'uomo Ok Questa è più semplice Non era più semplice Vai Ma che cazzo? Ma si è lanciato Ma come? Mi sono lanciato su un uomo E gli sto annusando le scarpe Vedi com'è felice lui Vai, 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 vai No, è possibile, raga Mi sono schiavellato sulle sedie E non l'ho preso È un qualcosa di orribile Orripilante Eh, a sto giro c'ho il muro Eh, vabbè E come potrei mai? Cosa sto facendo? Vai, 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 vai No, raga Aperte sempre il parrucchino quest'uomo È meraviglioso Ma raga, come faccio? Non è possibile Vedi che mi distruggo? Eccolo Vedi che il presidente sta riposando Raga, epico C'è lo slow motion No Vai Guarda come mi spezzo i piedi Ma non si può fare Dai Sì Sì, ce l'ho fatta Come? Non è possibile Guarda com'è felice il presidente Di essere salvo A chi sta salutando, signor presidente? Ma a me ne ho pensato nessuno Ok, siamo tornati nella stanza Completamente vuota Si è giunto un altro livello Ok, eccoci Dove sono sto Oddio Salta Salta No Ambulanza, sì Qui Il presidente sta qui, eh Vai No, vabbè Sono svenuto Ok Così No, vabbè Uno Due Ok, ma ha preso la schiena La spina dorsale Il presidente è felice Oddio, santissimo Ok, questa volta Sono su delle scale Come è possibile che mi sono spezzato le ginocchia Guarda, guarda È un mollusco Ma quest'uomo ha imparato a camminare tipo ieri Con lo slow motion Guarda, guarda Guarda le gambe Ma è una guardia del corpo inutile Ma guarda che schifo Devo uscire da qua No E intanto quello muore Vabbè Anche se scendi le scale con calma Non ce la fa Ah, vedi, cade Dai, dai Che è la volta buona Cioè, mi ha fatto la barba il proiettile Mi ha tolto i baffi Guarda, l'ho lì morto sui soldi Sì Ce l'ho fatta Oh mio Dio Ma quello non era un proiettile Quello è un proiettile di un bazooka Oh, adesso è in movimento Ho visto davvero quello che ho visto? Cosa sta facendo? Questo è il ballo del qua qua Che ti invatterò che sa Non ce la faccio, raga Ho spinto il presidente in slow motion Il parrocchino è rimasto lì E lui vola Presidente, non vada dai suoi fan Da solo Da solo in un angolo, morto L'ho salvato Presidente, dove va? Guarda come fa È il gioco più bello dell'anno Basta Altro che GTA 5 Ok, adesso cosa devo fare? Ah, bisogna abbassarsi Eh, sì Intanto che tu cammini come un bradipo Quello è morto Vai che il presidente ha bisogno Perché mai ci dovrebbero essere dei soldi su delle scale? Ma cosa? Dai che è la volta buona Mettiamoci proprio davanti Mi sa che l'ho ucciso io però il presidente stavolta No, è vivo, è sano Questo è amore Ok, ce l'abbiamo fatta C'è anche una bottiglia di liquore Stiamo facendo bene il nostro lavoro, eh Ma dove cavolo sono finito? In Texas No vabbè, non è possibile Non puoi farti del male fisico Cadendo da un centimetro Oddio Ho saltato tutto Alzati idiota No vabbè Ma perché mai ci dovrebbero essere dei barili Che cadono insieme su una rampa E il presidente è dall'altra parte E una guardia del corpo non può fare delle scale Davanti Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì D'accordo ragazzi, io concluderei qua questo episodio di questo gioco No Sense all'ennesima potenza. Ditemi subito se volete un altro episodio su questo gioco oppure no. Io comunque ragazzi vi ringrazio per essere passati, per aver guardato questo video. Vi ricordo che nella descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e Google Plus. Quindi se volete seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E io comunque ragazzi vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi. Ciao.